è il testa coda più interessante della quattordicesima giornata sulla carta una partita scontata eppure i pronostici per una gara del genere non sono mai stati così incerti foggia catanzaro si affrontano nel peggior momento possibile i satanelli reduci da tre x consecutive viaggiano con il freno a mano tirato uno stop improvviso che ha fatto perdere la vetta della classifica gli uomini di stroppa apparsi stanchi e poco lucidi soprattutto nell'ultimo turno contro la paganese virus di cui il catanzaro soffre fin dall'inizio della stagione zavettieri aveva messo una pezza conquistando due pare di fila poi anche lui ha dovuto fare conti con le sconfitte domenica scorsa catania è arrivato l'ottavo capo stagionale coinciso con l'ultimo posto in classifica allo zaccheria tra l'altro si presenterà un us falcidiata dalle squalifiche e dagli infortuni fuori in una volta di bari prestia pasqualoni giovinco baccolo e sarao assenze che costringeranno mister zavettieri ad un cambio di modulo con diverse novità in campo soprattutto in difesa curiosità anche lo scorso anno il catanzaro si presentò in terra da una più o meno nelle stesse condizioni e le acque le strapparono un punto risultato su cui più di qualcuno metterebbe la firma fischio d'inizio alle 20 e 30 arbitra il signor vincenzo valiante della sezione di salerno alle sue buon passo per la c news 24 ma 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 ma